Il motivo di orgoglio per la nostra azienda è realizzare impianti come questo che sono al servizio della comunità. Innovazione tecnologica e basso impatto ambientale per garantire eccellenza del servizio elettrico per tutta la Valtiberina, grazie alla inaugurazione della nuova cabina primaria che si trova tra le colline di Pieve Santo Stefano. È stato un impegno notevole perché è un impegno economico di circa 3 milioni di euro, ma non è soltanto quello. La realizzazione di impianti in queste zone comporta una grande attenzione anche al rispetto della bellezza dei luoghi. Per citare soltanto alcuni numeri abbiamo steso 17 chilometri di cavi di media tensione, questo rappresenterà anche l'importanza delle opere realizzate. Per i trasformatori, primo caso in Italia, è stato inserito un particolare dispositivo di isolamento sismico, una tecnologia che consentirà maggiore stabilità anche in caso di terremoto. In qualsiasi condizione la nostra cabina primaria continuerà a garantire la continuità del servizio elettrico perché è stata progettata e realizzata per resistere in qualsiasi condizione. A inizi anni 90 fu fatta una cabina tipo questa su nella montagna Badietta ed Alda, che al tempo ancora c'è una linea sola da Sansepolcro e Sestino, che ha migliorato tantissimo il servizio, però con questo dovrebbe essere una cosa molto migliorativa e oltretutto risolve il problema delle interruzioni non solo a Pieve Santo Stefano, a Caprese Michelangelo, ma anche a Sansepolcro. E c'è già uno sguardo al futuro e ai diversi modi di poter produrre energia. Le nostre cabine primarie a questo punto non sono più centri di trasformazione bassa tra alta tensione e media tensione, ma possono servire anche al contrario, come trasformazione tra media e alta e quindi si inseriscono in un complesso di gestione dell'energia elettrica della futura generazione, nel senso con generazione distribuita e pronta ad allacciare sia fotovoltaici, eolici, oppure clienti passivi che assorbono energia elettrica per la loro produzione.